Prima neve di questo anno anche a Barbarasco. Ieri venerdì la prima neve è caduta dal cielo verso le ore 14 e senza interruzione ha raggiunto i 30 centimetri dopo poco tempo. Le persone dalle finestre delle loro abitazioni ammiravano questo evento che comunque qui in Lunigiana è solito avvenire. Il bello di questo anno è che mancano proprio cinque giorni a Natale e questa festa è ancora più sentita per il paesaggio che ricorda un po' il presepe. I mezzi Spalaneve hanno cercato di liberare le arterie principali delle strade del paese liberando anche qualche macchina semisepolta dalla neve che è caduta nella nottata. Abbiamo incontrato una famiglia del posto a giocare con la neve fresca ed abbiamo intervistato un ragazzo brasiliano che da un anno è qui in Lunigiana e non aveva mai visto la neve. Sono qua, bello vedere la neve che, in Brasile non aveva mai, di inverno abbiamo 20 gradi e anche è caro, è bello vedere la neve. Stiamo facendo il mio primo boneco di neve, non ho pensato di fare un boneco di neve in Natale, perché nel Brasile non neve, non neve. Questo boneco di neve mando per tutti i miei amici e la mia famiglia del Brasile. Da Fabrizio Del Giudice, per te la Puana, buon Natale a tutti.